che l'atmosfera giù, cioè qui, grande emozione, grandi applausi, ma quelle che hanno mosso più entusiasmo, più applausi e più per le dogga sono state sicuramente le ragazze. A cominciare da Violette, Violette de Raj, che ha 23 anni. Poi c'è Samantha Davis, ed è la prima partecipazione, ovviamente. C'è Samantha Davis, che invece è la quarta, per esempio. Mi piaceva sapere un'opinione sulle ragazze, se vuole, se ce l'ha, insomma, se le conosce, se ci vuole raccontare qualcosa su di loro, su quelle che magari conosce un po' di più, ecco. Sicuramente conosco molto bene Justine, eravamo nello stesso team per l'Ocean Race, conosco molto bene Sam Davis, un po' meno le altre, diciamo, a livello personale, le conosco ovviamente a livello professionale, ma non è che ci parlo, diciamo, quotidianamente. Ma guarda, sicuramente per me Justine, in questa edizione, se vogliamo fare veramente un po' la favorita tra le donne, diciamo, ci punterei un po' di quote. Ha una barca ancora molto performante, il vecchio Charal, che adesso è Teamworks Neff, ha lavorato, ha stretto contatto con il team di Jeremy B.U., e poi comunque lei ha sempre avuto un grande foco sulle performance. Sicuramente vuole finire la regata, nel senso che è la prima edizione per lei, e quindi il suo obiettivo ovviamente è quello di arrivare alla fine, però allo stesso tempo, conoscendola, so che vuole spingere la barca al massimo, vuole cercare di fare bene. Quindi secondo me Justine, tra il gruppo delle sei donne, è quella forse che ha un po' più di cavalli a bordo da lasciare. Sam ha una barca relativamente nuova, e ha avuto un po'... 2022, se non sbaglio, Francesco, correggimi però se... credo sia nel 2022 la barca della Davis, no? Esatto. e ha avuto un po' di problemi all'inizio, quindi so che negli ultimi mesi il team tecnico ha fatto un ottimo lavoro per preparare la barca, per prenderla competitiva, e Sam è una bravissima navigatrice a livello di meteo, routage, penso che sia tra le più forti donne della flotta, e quindi magari quando le condizioni diventano un po' più complesse da dover magari fare delle scelte un po' diverse, magari potrebbe avere qualche coniglio nel cappello. Poi, vabbè, Violette, 23 anni, prima esperienza, ma mi ha fatto un po' sorridere la partenza, subito dalla partenza c'era Violette con Jean Le Cam, e lui è stato comunque un grande mentore per lei, e la più grande differenza di età di tutta la flotta, lei 23 anni, lui 65, e quindi ha fatto sorridere un po' che Violette si è messa subito un po' sotto l'ala protettrice, però in realtà sta navigando molto bene, insomma sta navigando veloce adesso nelle prime ore. E poi c'è Pip, con finalmente una barca un po' più performante rispetto alla tradizione, e lei ha fatto una scelta abbastanza così inusuale, è rimasta in Inghilterra, non si è trasferita in Francia, ha un team abbastanza anglosasso nelle spalle, quindi sicuramente una scelta magari un po' diversa rispetto alle altre skip, e poi c'è Isabel e Clarice, comunque che hanno già esperienza alle spalle, Clarice anche con una scelta un po' diversa, magari rispetto anche agli altri skipper, fa di base anche lei in Inghilterra, e quindi insomma... Col team di Alex Thompson si è preparata Clarice Cremero. Thompson è una barca abbastanza competitiva, secondo me, e bisogna capire quanto puoi riuscire a spingere, puoi avere la barca più competitiva del mondo, ma se ti riupo il freno a mano, poi diventa difficile recuperare miglia, quindi sarà molto interessante, sono molto curiosa di vedere Violette, perché è giovanissima, ma sembra veramente dimostrare una grande forza mentale, grande esperienza, quindi sarà molto interessante da seguire.